signori romanzo di un giovane povero scusate la luce fin del 1995 di scuola onestamente pensavo molto meglio non è che sia brutto un buon filmettino però non mi ha intrigato più di tanto sia c'è un bravissimo alberto sordi tutto quello che volete ma 7.9 certo punto non so sembra che si spegne però magari sono io basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciato un bel like ciao ciao